Proteste per l'impianto TMB, trattamento meccanico-biologico che dovrebbe essere costruito nel parco dell'Inviolate, centinaia di persone presenti su Via Roma a Guidonia Montescelio. Le politiche ambientali purtroppo sono sempre le stesse, nel senso che a Guidonia l'ambiente non se l'è mai filato nessuno. Questo è lo scenario che si è presentato al sindaco Rubeis nella giornata di ieri, il primo cittadino ha poi ascoltato i manifestanti. Grazie.